ma vai a cara amica mia brava dacci dentro non ti viene fuori forza forza ci vogliono i muscoli vengo io vai 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 vado a prendere il coltello brava stai attenta prima che ti fai male poi perdo un'amica vai vai stiamo firmando noi con una bella zucca così come si fa forse era meglio che prendevamo il martello un martello in siciliano te lo dico una bontà questa zucca deve essere una bomba vai 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 se vuoi vengo io e no gioia piano piano ci voleva il coltello più lungo vado di là a prenderlo no ok si che taglia brava questa qui fatta andare è grossa è che la volevi piccola io ce l'ho più piccola invece sai fatta al forno è ideale ti fai muscoli dai senza andare in palestra forza un bel risotto sai com'è buono e wow sei concentrata amica mia è un parto è un parto è il parto perfetto dai ci siamo sei quasi alla fine siamo quasi alla fine ah ah non hai fatta l'altra qua è l'ora non ho visto bene vai 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 senta le mani mosè vai di là mosè eh adesso vengo io e ti aiuto a aprirla ok chiudiamo il filmato gioia ok buona giornata allora ciao ciccia wow al punto giusto brava brava bellissima wow buona giornata a tutti si chiude il video allora c'è allora hai fatto i pacchetti sì